ciao con l'apertura del canale di youtube quest'anno ho deciso di fare gli auguri con un video così mi prendo anche qualche visualizzazione in più e magari qualche pollice su da amici e parenti vi ricordo che se volete iscrivervi al canale basta fare clic su iscriviti e selezionate la campanella per ricevere le notifiche delle pubblicazioni per ogni nuovo video noi ci diamo appuntamento a gennaio con le possiate pubblicazioni del martedì sera e giovedì sera con tanti nuovi video e tanti nuovi argomenti da affrontare da maestro fabio ramazzini a k r dojo e k r chido community auguro a tutti buon natale e un felice anno nuovo merry christmas ciao 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 ciao